Penso che se non c'è la casilla Avelino non accettarà. Sempre qualche giornalista aspetta a noi al marchio di giallo individuato, qualche partita che non va male incomincia a fare grandi dirli. Ci volevo che l'altro allenatore non ce ne frega, niente. Noi gestiamo e qualcuno ci deve mettere soldi se ci vuole. Noi non ci facciamo mettere paura da bombaroli, è chiaro? E' un passo che ci porti in zeri a pomeriggio. Bravo!